bello a tutti ragazzi benvenuti su questo nuovo video e oggi siamo sulla vanilla show con super megamer ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ero stanco di vivere in quella casa brutta e mi sono costruito questo tantana bellissima a me piace tanto scrivetemi nei commenti se anche a voi piace c'è il mod phone che rompe un po le scatole però guardate la mia casa c'è certo vetro perché qua nell'arrivamento stiamo cosa metterci qua c'è eccola una casa ma non vuole ciao qua c'è cosa la cucina è qua sotto non saprei cosa faccio scrivetemi magari nei commenti cosa parte sotto e anche oggi cosa facciamo qua c'è invece c'è il balcone con lo sbraio anche io ce l'ho che bello che bel sole io ho messo anche le bevande oggi cosa faremo andremo in miniera per cercare l'arrivamento a incantato di cantarcelo scrivetemi nei commenti se staccato vi piace e metterò un portino così allora anzi io vorrei fare una miniera tipo qua potrei farci la mia ma tutti ti devi prendere ancora tutta la tua cosa ma ecco c'è una miniera qua tu vuoi venire insieme a me oppure scaghi da sole vabbè vengo a contare vicino a casa mia aspetta vediamo qua se qua c'è un altro peccone più potenti vieni a se doveva darti il tuo alzante il tempo si no vieni a casa mia che andiamo in miniera aspetta arrivo cosa c'è niente ok vediamo quanti pezzi 26 vicino a casa tua l'altra casa o quella che hai costruito vicino a casa mia ma questa casa lo diseggiamo ma no lasciamo lì per il cordobus oppure per alcuni come vedete qua ho messo le foglie perché a me io l'ho messo sulla pia scendiamo aspetta iniziamo a scavare di qua pescavo di qua episodio mining oggi episodio in miniera io ah si mi son portato 9 torce che è stupido vado nel magazzino c'è c'è del carbone portame un po' anche a me questo buco non potevi farlo non c'è riuscita non in quel senso vabbè scendi poi ci penso a fare una scala non sto già facendo io io uso questo trucco per trovare i diamanti o altre cose non c'è qua non c'è qua non c'è qua non c'è qua non c'è allora mi porti anche un acqua di carbone che ho fatto finito alle torce quanti c'è miei? 6 5 ah altro altro del carbone abbiamo parlato vediamo qua se c'è qualcosa altro ah è da te lo sapevo vedete questo è un metodo di funzione per farsi desiderare i minerali e i minerali i minerali ti ricordi dove era? eh cosa? ah il magazzino la miniera? si stai andando al magazzino? ma non è vero? c'è? no perché stavo salendo vabbè basta con questo carbone mi sono rotto la scala lo raccolgo dopo forse vediamo se qua c'è qualcosa o la terra ok abbiamo trovato una parte del carbone No, c'è della chiave. Con noi continuiamo da questa parte. Opre il ferro. Eccola. Oh, ho trovato. Cosa? Speraldi? Una... Tu sei la pesca di Slazbi? Vuoi venire con me? Ho trovato una miniera. Ah, un'altra miniera. Ah, che tolè hai trovato? No. Ti stoffa qui. Ma, dove sei? Io sono nel magazzino. Ma, muovi, ti scusa. Guarda da solo. No, ti sto facendo le torce. Io le porto, muovi. Non le faccio non stop. Qua abbiamo sbagliato, ok. E risaliamo su. Ho finito. Era ora. Nono stop. Scriviamo. Ok, cos'è scritto? Ma dove è il buco? Il buco era in cobblestone. Dai che sei lento. Sto correndo. Non mi fai che tu stia correndo. Oh, ma muovi. Quanto c'era quello che sei lento. Eh, non è colpa mia. Mi sta allargando. È molto serbile. C'è col... Vabbè. Vanti. Ma è qua il buco? Qua. Ma dove stai andando? Sto andando nel buco. Ma è qua. Oh, fermo. Non c'è lì. Perché? È qua il buco. No, il buco era qua. L'avevo tappato io. Vabbè, vado io solo che... Non sembra se tanto non c'è l'ora. Torce la mano. Ok, let's go. Vuoi venire? Arrivi. Farro. Corrone. E si continua a scavare. Cosa c'è? Oh mio Dio! Ma che? Cosa hai fatto? Ho scavato solo il ferro e poi è successo. Illumina! Ahia! Sono intrappolato. E cosa hai fatto? Ho scavato solo il ferro e poi c'è ancora un ferro e te. Cosa vuol dire? Muti! Muti le torce! Muti le torce! Per cosa? Che disastro! Che disastro! Cosa fai? Cosa fai? Non stai fermo. Ma scava con la pala! Non ce l'ho la pala, ok? Non si sente. Ma scava con la pala! da